Guarda, ma ha questi belli i capelli, ma ci diciamo che si sposta, non ci puoi morire, no? Assia, assia, perché già sa che stanno i cristiani, che è con me, oppure? L'abbè, ci sono bastardo, non mi mandavo niente. Non ti mandavo niente? Io questo ti volevo accennare, ti volevo parlare di questo fatto, ti ripeto, te l'ho scritto la lettera. Io l'hanno fatto fare, questo fatto che è mio, oppure? Io, se non c'era lui, io sto incassando cacchi 600 euro di giorno, che non arrivo da nessuna parte, cioè da nessuna parte. Se non ci fosse lui, io ne incasserei 800, 900, hai capito? E ho il problema, mi ti mandi 500, 600, 700 euro di giorno, se non l'hai proprio, hai capito? E manco me l'hai proprio a dire tu, c'è il problema dei figlioli, mani 700 euro di giorno, non c'era minimamente, perché io pigliava e ti mandava senza manco usare tu, capiscisti? Perché se erano 4-5 mila euro di giorno, mi ti mando 500, 600, 700 a te, ma mi passa per te, hai capito? A me, sotto certi aspetti, ma andiamo meglio, mi spara un cristiano, che mi viene meglio, come vai, non ci c'è il viso, io non so, capace, ma io mi impresto, io non ci metto anche, perché, ma compara che tu chiedi, ma come sono fatti? Se giro, mi spara uno, vai, perché, quando fuggi un pare, è brutto, se è giusto così, perché ci sono dei regolamenti, però, ma no, un pare di famiglia, possiamo trovare di sparo, non c'è il giallo. Anche dell'ulso, qui si, ah, non sapete? Queste le chiamano le cartella volte, non sapevo come ingiurirlo, che si fanno parte di domani, per la tua vita. Queste sono le cose belle, nelle famiglie, quando si fa parte di una vita, si ferma, ha bisogno di qualcosa, giusto? Ma è così deve essere, no? Però se io sto con voi, chiedete che subito che non potete venire voi, dovete non vincere, non posso venire io, io sono fatto così, ma buono, non hai un duple fassi, però voglio un aspetto, perché aonde non hai un aspetto pubblico, sono in condizione, hai una ruota, non è andata da lui, ok? Hai una ruota, mi fanno aggiungere un aspetto. E quando i ruoti partono una montagna, hanno un triplo valore, ricordate? Per quanto riguarda l'accoppiamento del cane, me la vedevo io, non hai capiscito di che tu volevo dire? Ah, va bene, comunque, in caso il suo cane non piglia. Sì, è normale, ormai l'hanno portata avanti, ormai per dire che abbiamo, e poi siamo fino a che... Però non ti voglio dire, tu, fammi fare a me, non ti preoccupare, che io con il pen di tanto.